Addio a visi congelati da lifting estremi e ai sorrisi paralizzati da overdose di botulino. Quest'anno tra le celebrità non più giovanissime impazza la pillow face, un volto a cuscinetti caratterizzato da zigomi prominenti, un'area sotto gli occhi incredibilmente liscia e piatta, labbra piene e una fronte che non è solo liscia grazie al botox, ma anzi curva e ben imbottita. E la moda, notano gli specialisti in filler britannici sul quotidiano Daily Mail, sembra aver contagiato bellezze della musica e dello spettacolo, da Madonna a Nicole Kidman, ma anche Michelle Pfeiffer, Meg Ryan, Liz Harley e Pamela Anderson. Perfino la first lady francese Carla Bruni mostra delle guance gonfie e piene che qualcuno malignamente definisce improbabili su una donna molto magra over 40. E se le celebrità assicurano che il loro aspetto liscio e polposo è frutto del religioso consumo di litri e litri di acqua al giorno e maratone di yoga, gli specialisti non hanno dubbi nel puntare il dito contro il boom di trattamenti non chirurgici, in particolare filler artificiali in voga per rimpolpare volti magri e scarni.